Lo chiamavo da una cabina telefonica, mi aveva dato un numero riservato e ci scambiavamo pareri. Questo è andato avanti dal 94 fin verso il 96. Poi non so cosa sia successo, forse c'era anche intorno a lui qualcuno particolarmente ostile nei miei riguardi, ma ha avuto qualche battuta infelice e io ho reagito e da quel momento si sono un po' interrotte le comunicazioni, quindi negli ultimi due o tre anni non ci siamo sentiti, salvo alla fine. Alla fine fu Stefania che mi chiamò, me lo passò il telefono perché mi voleva parlare ed era appena stato operato, aveva una voce stanca, sofferente, però era straordinariamente affettuosa e gli dice vengo subito. Lui dice no aspetta un momento mi ristabilisco, sono appena uscito dall'ospedale, ti chiamo io, ma vieni con Giacomo che è mio figlio, a cui era molto affezionato. E non avete fatto in tempo ad andare. No, purtroppo no.